L'acqua raggiunge gli angoli più lontani della Puglia Come una grande ragnatela percorre oltre 20.000 chilometri L'acqua è preziosa Non possiamo perderne neanche una goccia Per questo, tecnici attenti e preparati controllano la pressione e le perdite nei tubi Con l'aiuto della Regione e dei Comuni L'Acquedotto Pugliese è in programma di sostituire e risanare moltissime reti nei prossimi anni L'acqua raggiunge gli angoli più lontani della Puglia